Una nuova sede per la Prefettura di Sernia nell'area dell'ex istituto Ignazzo Silone. Una soluzione che vedrà il Palazzo di Governo e il Comune condividere un unico immobile adeguato agli standard qualitativi più innovativi. Il protocollo d'intesa per la realizzazione della nuova sede della Prefettura nell'edificio di proprietà dell'amministrazione comunale sarà sottoscritto con il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Sernia, la Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio, la Regione e il Comune Pentro. L'obiettivo è quello di dare il via a un processo unitario di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico presente nella Regione Molise, rispettando le normative attuali in materia di sismica e di risparmio energetico. Attualmente la Prefettura di Sernia si trova in una porzione di un condominio a più piani, il cui utilizzo è regolamentato da tre distinti contratti di locazione passiva. L'amministrazione comunale, dal canto suo, nel 2016 ha partecipato ad uno specifico bando pubblico per il miglioramento sismico dell'ex istituto comprensivo Silone, in qualità di sede di uffici comunali, ottenendo un finanziamento pari a 1.270.000 euro. I reciproci obiettivi di ottimizzazione, razionalizzazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni di Prefettura e Comune hanno portato al protocollo d'intesa. Tutti i soggetti istituzionali interessati hanno avviato i tavoli tecnici con il coinvolgimento anche della Regione Molise. Il sito dell'ex istituto comprensivo Silone è stato individuato come area idonea a soddisfare i requisiti e le caratteristiche necessarie per le esigenze logistiche di Prefettura e dell'amministrazione comunale.